di Grosdanov il 23 a 19 e qui Cisterna ha fatto tutto quello che poteva realmente e Verona si è guadagnata meritatamente questo punto perché Keita ha servito forte e il muro di Grosdanov è stato fenomenale impenetrabile il bulgaro in questa azione di muro sono 4 di vantaggio in questo quarto set il terzo a Cisterna arriva un rosso e quindi un punto contro la formazione di Cisterna solo per Stoicev rosso per Stoicev per reiterate proteste devo dire che in questo set ha protestato parecchio ha un po' innervosito e indispettito anche i direttori di Galaga bisognerà adesso caro Fabio cambiare il punteggio perché un punto va alla doppiovole Cisterna dopo questo cartellino rosso perché lo ricordiamo però ancora non è eccolo qua 20-20 23-20 perché Grazie.